Veronica hai capito quella continua a provarci con il tuo ragazzo si con Diego ho allerto anche le conversazioni nonostante tutto ciò che è successo ieri ma è proprio la svergognata ma per caso stai parlando di me? No lo stavo parlando di te si si prevene a Macerian che fai prima parli male dopo te lo neghi andiamo a parlare di là vieni ma quello di ieri non c'è abbastanza no vieni